amici di corse di moto ben trovati siamo collegati con l'ingegner mario manganelli che non ha bisogno di presentazioni è stato per 12 anni responsabile dei del di aprile racing dell'area motori vincendo sette campionati del mondo superbike poi ha fatto successivamente esperienze in formula uno con mercedes quindi è un'autorità nel suo campo vogliamo parlare con lui di superbike la superbike 2024 promette tantissimi cambiamenti sappiamo dei cambi di marca di toprak razziati oglu di jonathan ria che saranno in bmw e yamaha ma quello che ci interessa analizzare oggi è il regolamento tecnico un regolamento tecnico che propone tantissimi cambiamenti che potenzialmente potrebbero cambiare molto la faccia del mondiale anche i valori a cui eravamo abituati fino allo scorso ottobre ecco mario andiamo con ordine analizzando voce per voce tutti i cambiamenti quello che è un cambiamento di cui si è parlato finora abbastanza poco ma che secondo me potrebbe avere un grande impatto è quello che darà la possibilità ai costruttori di intervenire su albero motore volano variando il peso di questi due componenti di un 20 per cento in più o meno che è tanto ecco mario dalla tua esperienza cosa può cambiare questo intervento su albero motore volano allora buongiorno paolo buongiorno a tutti allora è un intervento importante perché permette di modificare la dinamica del del motore della risposta dinamica del motore quindi anche della della coppia che riusciamo a trasferire a terra e combinando il peso e quindi l'inerzia dell'albero motore del volano possiamo salire in determinate condizioni quindi avere un motore un pochino più facile da guidare o scendere se cerchiamo di avere maggiore prontezza di risposta e l'inerzia dell'albero motore combinata al volano è molto importante specialmente nei circuiti veloci circuiti come monza in cui aumentare l'inerzia e il peso dell'albero motore può far raggiungere anche qualche chilometro all'ora in più mediamente un dieci per cento di inerzia in più potrebbe essere anche potrebbe far raggiungere la motocicletta fino a tre chilometri all'ora in più queste sono esperienze fatte che i progettisti e gli ingegneri di pista sanno bene quindi un grosso vantaggio un'altra grande modifica è quella che riguarda i consumi il serbatoio fino all'anno scorso poteva accogliere 24 litri di carburante scendiamo a 21 che è un bel delta diciamo cosa può succedere con questa forte limitazione di consumi diciamo aggiungo che non ci sarà più nel calendario Imola che era il circuito che sottoponeva le moto al maggior consumo dove il consumo era una problematica che già lo scorso anno con 24 litri le squadre affrontavano adesso con 21 allora certo ridurre il carburante innanzitutto da un certo punto di vista è una disruzione di peso e quindi quando parliamo di un veicolo da competizione è sempre positiva dall'altro punto di vista noi togliendo benzina parità di distanza percorsa e volendo massimizzare la prestazione dobbiamo lavorare con miscele più magre miscele più magre rendono il motore più difficile da gestire in termini di guidabilità in termini anche di freno motore dobbiamo cercare di utilizzare meno benzina e questo chiaramente condiziona la guidabilità sono tutte cambiamenti che sono avvenute prima in formula 1 poi li abbiamo avuti in moto gp e quindi l'esperienza dei tecnici ricollegandosi a esperienza anche a altre attività fatte può essere molto importante si girerà con motori con temperature un pochino più elevate in camera di combustione perché le miscele saranno più magre e all'inizio andranno ritarati tutti i controlli di trazione e anche il freno motore ecco un altro cambiamento sempre lato carburante è l'introduzione del biofuel dal 2024 sarà obbligatorio utilizzare un carburante che abbia almeno il 40 per cento di origine vegetale aggiungo tanto per come aggiunta narrativa che già nel 2023 nello japan superbike cioè nel campionato giapponese superbike è stato utilizzato un monocarburante fornito da una casa europea ets al 100 per cento vegetale senza nessun problema sempre e sempre con con una riduzione delle prestazioni praticamente impercettibile quasi nulla quindi questo 40 per cento mario può impattare in qualche modo secondo te allora ets e i giapponesi hanno fatto hanno introdotto questa modifica che già in altre categorie è presente questa benzina modificata è importante per correre queste strade di benzine derivate dal bio fino al 40 per cento e probabilmente nei prossimi anni non ci fermeremo al 40 per cento ma andremo molte non ci saranno grossi problemi andranno ribilanciate le mappature del motore e un'altra cosa che dovrà essere verificata bene è quanto questa benzina combinandosi con l'olio che c'è all'interno del motore potrebbe avere una certa diluizione ecco questo è l'argomento forse che più necessita maggiore attenzione anche in formula 1 ricordo che con percentuali più elevate uno degli aspetti più importanti era la diluizione della benzina nell'olio l'olio chiaramente cambia la sua viscosità e può avere può creare delle problematiche in termini di lubrificazione ma con oli dedicati e specifici per queste applicazioni estreme i problemi si possono risolvere ecco quindi è bene andare in questa direzione nelle benzine quindi la vedo come una cosa estremamente positiva ecco sempre nell'ambito del continuo evolversi del regolamento tecnico superbike la federazione internazionale introdurrà il controllo del flusso carburante nel 2025 e in questo 2024 due moto almeno per ogni costruttore dovranno essere dotati un'apparecchiatura per misurare il flusso di carburante ecco partendo anche dalla tua esperienza in campo formula 1 su cosa può intervenire questo controllo del flusso cosa può determinare certo è stato introdotto in formula 1 è stato sviluppato per un anno e mezzo da una casa elettronica che ha fornito questa unit che veniva montata a bordo auto e è stato necessario un po di tempo perché è stata tarata in funzione anche delle applicazioni nelle differenti scuderie di formula 1 necessità di un periodo infatti mi sembra che il prossimo anno la faranno dei test faranno delle campionature anche durante in gara per vedere il funzionamento perché chiaramente su una moto è tutto tutto molto più piccolo e nel momento in cui funzionerà bene controllerà la portata di carburante cioè il consumo effettivo di carburante del motociclo da competizione penso che sia corretto l'obiettivo è quello di ridurre ulteriormente i consumi e soprattutto di avere la certezza che tutte le squadre si comportano allo stesso modo ecco ci sarà un periodo di adattamento ma non vedo una difficoltà grande anche perché sono esperienze già fatte da aziende elettroniche e quindi l'esperienza in questo caso aiuta molto ecco parliamo adesso dei due temi che eccitano un po di più la fantasia degli appassionati giri motore e il peso combinato allora giri motore ancora la tabella ufficiale non è stata diramata in vista dell'apertura del mondiale del 24 febbraio a philippo island però secondo indiscrezioni ripartiremo con gli stessi valori di fine stagione 2023 salvo la ducati che torna a 16.100 giri invece dei 15.500 che i ducatisti hanno utilizzato nelle ultime gare a fronte del doppio taglio di 250 giri ogni volta che hanno subito durante la stagione ecco poi alla fine a conti fatti questi 500 giri in meno non è che abbiano creato tutta questa impassa la ducati con bautista che ha continuato a vincere e ha fatto 27 vittorie su 36 gare quindi mario che ne pensi di quella fine questo argomento dei giri mi sembra molto più suggestivo che reale come impatto fondamentalmente sì cioè diciamo che i giri motore sono fondamentali e fanno parte della performance tutti i motoristi cercano giri motori e maggiore potenza specialmente i motori di questo tipo che non hanno corse di albero motore particolarmente lunghe quindi si cerca di aumentare i giri per aumentare di conseguenza la velocità media del pistone e ottenere maggiore prestazione ducati ha fatto un eccellente lavoro perché comunque anche nel momento in cui gli hanno tolto 500 giri loro avevano un motore praticamente che aveva un campo di utilizzo molto molto importante e questa è progettazione questi sono investimenti che le case fanno anche per i prodotti di serie sono bene che siano tornati il 1600 perché chiaramente era l'obiettivo della casa hanno scambiato questa opzione qui con la Zavorra perché dall'altra parte abbiamo Alvaro che è uno dei piloti se non il pilota più leggero e è chiaro che rimarrà sempre un argomento di lotta e di discussione perché i giri motori fanno la prestazione ecco quindi io sono sempre stato a favore di lasciare liberi i giri motore in funzione della prestazione che del prodotto che una casa decide di mettere nelle competizioni perché alla fine fanno parte dell'imprinting aziendale e questo non deve essere rallentato ecco veniamo al nodo principale il peso combinato moto pilota ricordiamo che il veicolo superbike ha un peso limite minimo di 168 kg che resta inalterato da quest'anno viene misurato il peso del pilota è stato stabilito un valore ideale di 80 kg del pilota in ordine di marcia cioè con tutto l'abbigliamento chi è sotto questi 80 kg il 50% della differenza diventa Zavorra quindi esempio pratico Alvaro Bautista da due anni imbattibile fondamentalmente da due anni campione del mondo in ordine di marcia con tutto l'abbigliamento peserebbe 68 kg quindi il delta è 12 kg la metà 6 kg di delta Bautista ha detto che rimodulerà la preparazione fisica per mettere un po' di massa muscolare quindi magari prendere 1-2 kg quindi si parla di una Zavorra a carico di Bautista di 5-6 kg complicazione in aggiunta ogni giovedì i piloti verranno pesati quindi la Zavorra verrà rimodulata ogni round dei 12 round previsti quindi si prospetta che gran parte dei piloti non avranno la Zavorra quindi peseranno normalmente come è sempre stato invece Bautista che è il pilota da battere avrà questi 5-6 kg da portarsi in pista ecco Mario, vista la tua esperienza di tecnico 7 volte campione del mondo Bautista con 6 kg vince comunque o non vince più? considerando che ci avete insegnato sempre in tutti questi anni che un grammo nelle gare conta quindi 6 kg quanto conteranno? allora il veicolo da competizione la motocicletta da competizione che ha Ducati ha uno sviluppo secondo me che è veramente molto molto alto sarà continuerà a essere e me lo auguro anche la moto da battere perché comunque è evolutissima e comunque sia anche muovendosi con queste labirinto di regolamenti regolamenti saranno sicuramente là davanti Alvaro continuerà a vincere perché è veramente in forma e si trova molto bene con questa motocicletta non penso che un chilo rivoluzionerà completamente la prestazione certo che un chilo su 5 non sono pochi ecco è chiaro che nelle corse si progetta sempre al limite perché poi si cerca di arrivare al peso regolamentare col veicolo con una zavorra però diciamo che lui cercherà di fare questa dieta in modo che questo peso sarà al massimo di un chilo cercheranno di concentrarlo nella posizione più vicina al baricentro della motocicletta per rendere quindi la moto neutra da questo punto di vista però sarà un chilo in più comunque ecco io penso che sia non sia un regolamento estremamente corretto io ricordo che anche nella mia esperienza noi abbiamo fatto tantissimi test anche con piloti o collaudatori più pesanti di quello che erano i piloti e al varo l'hanno avuto anche i MotoGP nell'inizio della MotoGP con Aprilia e comunque facevamo i test anche con piloti più pesanti io alla fine il prodotto si riesce a sviluppare comunque ecco io penso che questo non sia un'idea molto ragionevole nelle competizioni questa cosa del peso dei piloti ecco dovrebbero secondo me lasciarla un pochino più libera la moto sì però i piloti dovrebbero avere una certa libertà anche perché il peso del pilota dipende dall'attrezzatura ci sono aziende che fanno attrezzature anche più leggere e quindi questa è anche questa tecnologia ecco ecco Mario tirando un po' le somme dall'Australia in poi se ti aspetti una superbike che va avanti nel segno della continuità cioè con la Ducati là davanti Yamaha la sfida principale poi via via tutte le altre con BMW e Honda che dovremo vedere quanto sfrutteranno le grosse concessioni tecniche che hanno e la BMW tra l'altro anche la carta Toprak oppure vedremo una superbike completamente rivoluzionata un po' dai cambi di marca dei piloti e un po' anche da queste regole tecniche che idea ti sei fatto Allora l'idea che mi sono fatto come dicevo prima è che Ducati sarà la moto da battere con Bautista e mi auguro che anche il suo compagno possa essere nelle prime posizioni per ribadire questo concetto di moto veramente superiore ci sono stati dei cambi di piloti di cambi di casacca che sono fisiologici sono normali all'interno di un campionato ci sarà un momento di adattamento che non è non dura il periodo dei test ma può durare anche mesi e un certo numero di gare che possiamo contare anche su una mano o magari può durare anche di più e questo secondo me avverrà le concessioni devono essere sfruttate bene nel momento che è le concessioni rischi rischiare vuol dire tornare anche indietro quindi chi ha le concessioni non ha solo un vantaggio ha anche un vantaggio di un rischio o meglio ha un vantaggio perché può provare qualcosa di diverso però chiaramente provare qualcosa di diverso è un rischio chi non le ha è chiaro che congela una specifica la conosce bene perché ha fatto i test di affidabilità conosce bene dov'è e sa che quella configurazione è prestazionale da tutti i punti di vista e quindi può sfruttarla al massimo in pista e non penso ci saranno rivoluzioni mi aspetto comunque una BMW competitiva perché lo spirito del pilota di Topper che hanno preso è uno spirito molto molto aggressivo probabilmente più concreto e aggressivo del pilota che avevano precedentemente in questa direzione su Yamaha e Kawasaki ho maggiori dubbi ecco benissimo Mario Manganielli grazie per questa disamina che hai fatto molto approfondita che risentiamo per le prossime occasioni con argomenti diversi intanto noi gustiamoci per quanto riguarda la Superbike i test che ormai sono imminenti sia Gerez e Portimao e poi tra un mese l'apertura del mondiale grazie Mario e grazie a tutti grazie Paolo arrivederci a tutti alla prossima buona giornata grazie a tutti